Tennis and Friends, settima edizione, il tuo impegno per lo sport, per la salute e per il benessere di questa città è sempre molto importante e fondamentale? Sì, ci teniamo molto a Tennis and Friends perché coniuga egregiamente sia lo sport ma anche la prevenzione medica e anche diverse iniziative di beneficenza e anche le iniziative delle federazioni, devo dire molto molto interessante. Prossime cose che farà il Comune di Roma per lo sport e per la salute delle persone? Stiamo migliorando molti degli eventi, dei grandi eventi cittadini, stiamo investendo anche con i nostri bandi su sport e prevenzione, sport e alimentazione sana, sarà vigente entro pochi mesi il nuovo regolamento degli impianti sportivi e dentro si parla anche di qualità del servizio erogato. Molte cose in cantiere. Grazie. A te.